Bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Aleferranti25 e oggi siamo su il gioco più difficile al mondo Stiamo qui perché ho avuto problemi con l'editing di Tomb Raider, quindi lo carichero domani Tomb Raider Devo fare Amnesia ieri, ero sorpreso, Amnesia ritornerà, già, già, già Ok, cominciamo, volevo fare Cat Mario però ero troppo ripetitivo Ce la farò, ce la farò, eh, come pensate qua Troppo pro, troppo pro, troppo pro niente, troppo pro Mamma mamma mamma, ci sono 30 livelli Wow 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 wow, che cavolo, che cosa ho fatto, cose impossibili Non è possibile Mamma mamma mia Io vado troppo in ritardo Ho il cervello che mi va in ritardo Oh non è possibile Era basta però Oh no, era uscito e blocchera in me Era basta Non c'è la farò E però Ho preso la pazienza Non posso partire lì Tutto un gioco così sia a primo livello Lo finisce qua però, eh Merda Mamma mia, sto restrucendo quasi la stampante Mamma mia, perché schiacchi tutti i tasti insieme Poi mi stupisco per la mia stupidità, veramente Ciao Dai No Ce farò mai Vai, vai Ok raga, continuiamo Si muove il poster di Black Flag, perché, che cosa succede? Ok niente, oh, funziona il gioco Mamma mia, ho Mamma mia, ho Ma dai Ma dai Che pro ragazzi Avete i miglior pro Al mondo Pro player Che si arrabbia Ci crede che sono già A 23 vite Non meno, perché Quello è che ti mario Mamma, 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 mamma Calmi Calmi No Si nervosendo Mamma, 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 mamma Non so Vai Forse Così ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Ne Dai Però Schiacciano 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 i tasti a caso Cosa stavo facendo Io devo farle una rivoluzione Potevo Cioè Oh Che succede? Sono Sì E Sì Vabbè Ho fatto la pro playata Dal primo livello Basta Finita qua Oh Però Mamma mia Facciamo qui Ogni è morto C'è C'è Morivo Morivo Che cosa Stavo facendo Se ce la faccio Di nuovo Non so Non ho capito Neanche cosa Stava succedendo E questo è il problema Forse ho capito Ora Eh però Niente Ora Ora Mamma mia Dei cagati di Almeno il check point Se quello è un check point Almeno Oh what What Non è il check point Algeti stima Algeti Come hai fatto Algeti Il livello 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 Li potete buttare Al secondo livello Maledetti 72 morti Ora Esce la pro playata Che Ora Faccio la pro playata Sì La pro cagata Non facciamo i problemi Sono troppo forte Sto diventando pazzo Che succede Sto diventando pazzo Sto diventando pazzo No 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 questo gioco è più simile perchè si chiama nel possible game si chiama nel possible game chi è che l'ha inventato ho scoperto che c'è anche pure il 2 e il 3 questo rozzo va bene va bene va bene ok ok sono ricordi che l'hanno detto sono i creatori questo impazzito ci faccio più 27 minuti avevo 5 minuti ora faceva proprio leghiata lo so che la faceva proprio leghiata ecco ora faceva proprio leghiata no no scusate adesso adesso prima era lì di scallamento legge questo quadratino what 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 vabbè dai si avanza più con i passi con i passi ora faccio la pro cagata ok si 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 poi poi eh 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 lo sapete fare di me non si faccio più no 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 non non ho tagliato neanche una parte sono rhythm ragazzi non ho tagliato neanche una parte di questo video che un volta che muoio per me è un traguardo non doli fiammetti a poi basta basta finita quando ormai so che è finita adesso faccio la propleiata del secolo perché dall'altra parte sono andato? oh questo cuore? eh che cavi appena riesco a uscire ma che è? mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ma non riesco più a giocare questo gioco è da malati proprio questo gioco è da malati perché che mi piace se pensate che sia stupido e non riesco a fare quel secondo livello se pensate che ne riesco a farlo in questi ultimi 4 minuti di partite e lì là no basta sono pazzito io i creatori sono pazziti mamma mia io anche io ci gioco ci fanno incontro fino a qua non c'è la dura ok ok ho tutto il tempo di pensare aspetti perché mi puoi uccidere non mi poteva oh prima non mi uccide poi mi uccide se però è però è però è però è però però perché non ho colto le pannine perché sono così stupido perché sono stupido sono stupido non ce la faccio non ce la faccio sono convinto che ce la faccio scusate raga per avermi deluso so che aspettavate a minuitare sul gallo se la farò mai cosi no non mi potete buttare giù così maledetta parolino produttori di stangia oh no no wow 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 calmiефa calmissimi Calmi, calmissimi, wow, 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 no, ora muoio, scappa, giù, mamma mia, butta giù il mondo Ale, bella, molto livello, è arrivata la mia fine, basta. Cioè l'ho fatto, sono al 5 tipo. Basta, ormai mi basta questo, se vi facevi il video mi piace e mettete mi piace, 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 un retro per te si è presso il video e scop evidente Grazie a tutti.